Musica Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Venezia. Sarà il veneziano Roberto Cicutto, il nuovo presidente della Biennale. La notizia è stata comunicata dal ministro dei beni culturali Dario Franceschini che proprio questa mattina ha avviato la procedura di nomina. Nell'annunciare l'assegnazione dell'incarico a Cicutto, il ministro Franceschini ha voluto ricordare l'importanza del lavoro svolto dall'ormai ex presidente Paolo Baratta, grazie a cui è stato possibile un processo di rinnovamento in tutti i settori di attività che ha portato ad incrementare la già notevole fama della Biennale sulla scena internazionale. Venezia sarà sempre una città libera, democratica e capace di fare memoria dell'immane tragedia che fu la Shoah, che voglio annunciare la mia personale volontà di proporre al Consiglio Comunale di assegnare la cittadinanza onoraria di Liana Sede. Assieme, Uniti abbiamo il comune obiettivo di costruire ponti di pace per fare in modo che il giorno della memoria, che oggi celebriamo in modo solenne, rimanga vivo in ogni gesto, in ogni pensiero della nostra vita quotidiana. Anche da Venezia deve partire il grande messaggio che noi non abbiamo paura. Già in passato, pur essendo io cattolico, ho indossato in qualche occasione la kippah. Voglio continuare a farlo per ribadire l'amicizia e la solidarietà al mondo ebraico. Nel vecchio continente esiste un nuovo antisemitismo che colpisce gli ebrei ogni giorno, costringendoli a nascondersi e ad occultare i simboli della propria fede per paura di provocare una reazione. Difendendo il diritto di ciascun ebreo di sentirsi e mostrarsi ebreo, noi difendiamo l'Occidente, la nostra identità, i nostri valori, i nostri diritti e i nostri doveri, la nostra storia. Si sono svolte ieri, domenica 26 gennaio, presso il Teatro Goldoni di Venezia, le celebrazioni per la giornata della memoria. La cerimonia a cura della Presidenza del Consiglio Comunale di Venezia, in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto, Carlo Goldoni, ha visto la partecipazione del Presidente della Comunità Ebraica di Venezia, Paolo Gnignati, nonché di numerose autorità civili e militari, tra cui la Presidente del Consiglio Comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, e il Prefetto Vittorio Zappalorto. Proprio in questa occasione, il Sindaco Luigi Brugnaro ha comunicato la volontà di proporre al Consiglio Comunale il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. Ma all'annuncio del Sindaco Brugnaro è scattata la polemica del Movimento 5 Stelle. Il Sindaco Brugnaro ha annunciato come sua iniziativa la proposta al Consiglio Comunale di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice Segre. Come già successo col Mose, pare che, anche in questa circostanza, il primo cittadino abbia sofferto di amnesia e non ricordi che il Movimento 5 Stelle, con adesione dei gruppi Lista Casson, Gruppo Misto, PD e del consigliere Maurizio Crovato, aveva depositato in data 5 dicembre 2019 una proposta di delibera consigliare con la medesima richiesta, dichiara la capogruppo del Movimento 5 Stelle Sara Visman, che aggiunge Un po' di onestà intellettuale da parte del Sindaco sarebbe stata molto gradita, perché se è vero che l'importante è arrivare a un risultato condiviso, è altrettanto triste assistere alla performance in salsa elettorale sul palco del Teatro Goldoni, quando c'era tutto il tempo di portare la delibera in consiglio, perché fosse votata favorevolmente prima del giorno della memoria. E continuano gli episodi di razzismo contro i membri della comunità cinese. Dopo il caso della 19enne in treno sulla tratta Venezia-Padova, lo scorso fine settimana un gruppo di adolescenti avrebbe insultato e sputato contro una copia di turisti cinesi. Nonostante il fatto sia stato riportato dall'ANSA e dai quotidiani, pare che le forze dell'ordine non abbiano ricevuto alcuna segnalazione in merito. La vicenda comunque potrebbe diventare materia di approfondimento d'ufficio. Stando alle testimonianze dei due turisti e del proprietario del locale che li ospitava, a scatenare l'aggressione sarebbero state le recenti notizie sull'epidemia da coronavirus. In coda come alle poste, ma questa volta il giallo, non indica lo stemma con le lettere PT, ma la qualità dell'eroina. Alle 7 del mattino erano già una decina i clienti che nel sottopasso di Via Dante, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Mestre, attendevano l'arrivo del loro pusher per acquistare la dose di eroina gialla. Ad incastrare lo spacciatore, un 26enne nigeriano senza fissa dimora e irregolare in Italia, alcuni poliziotti in borghese che, fingendosi passeggeri diretti a prendere il treno, l'hanno prima fermato e poi arrestato. LA, queste le sue iniziali, era già stato denunciato nelle scorse settimane per aver venduto dell'eroina gialla a una ragazza poco più che maggiorenne. L'uomo ha patteggiato 8 mesi di reclusione con la sospensione della pena. E sempre gli agenti del commissariato di Mestre, nel corso della mattinata di sabato, hanno arrestato su ordine di esecuzione della procura BN, un 45enne già noto in quanto basista di una rapina, un istituto bancario di Chirignago, avvenuta ad opera di 5 trasfertisti catanesi nel dicembre del 2016. L'uomo è stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione. Rapinatore viene costretto alla fuga dal titolare del negozio armato di mazza da baseball. Pur rievocando una scena da film americano, il fatto si è svolto presso la tabaccheria Gasparini di via Garibaldi a San Donà di Piave. Sono circa le 6 del mattino di sabato, quando il criminale, con il volto parzialmente coperto da un cappuccio, entra nel negozio e intima al tabaccaio di consegnargli il denaro, minacciandolo con il coltello. Ma è bastata la vista della mazza impugnata dal titolare per mettere il mal di venti in fuga. Al termine delle indagini, il rapinatore è stato denunciato dai carabinieri. L'uomo, un 39enne di San Donà di Piave, è ritenuto responsabile anche del colpo avvenuto alcuni giorni fa ai danni di un'edicola di villaggio San Luca. E sempre sabato mattina è stato trovato morto in una stanza dell'ostello Andavenis di Mestre, Matteo Voltorina, 38enne, figlio di uno dei fondatori dell'antica murrina veneziana. Secondo la ricostruzione, il personale della struttura, non riuscendo a mettersi in contatto con l'uomo, sarebbe intervenuto facendo irruzione nella stanza per trovare il 38enne senza vita accasciato ai piedi del letto. Inutile l'arrivo tempestivo dei soccorsi, i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Richiesto dal magistrato, l'intervento del medico legale per l'autopsia. Concludiamo con lo sport, si interrompe il climax ascendente di successi per la Reier. Continua invece l'escalation della capolista Segafredo Virtus Bologna, che con grande illusione dei tifosi era granata, espugna il talierscio tutto esaurito con un 71-83 finale. Credo che sia stata una partita divisa in due parti il primo tempo, dove credo che avremmo meritato di chiudere in maniera diversa, perché credo che la Virtus abbia vissuto su alcuni errori che abbiamo commesso e finché abbiamo avuto energia abbiamo impattato soprattutto a livello fisico, anche se non di talento. Terzo e quarto quarto la Virtus ha dimostrato in questo momento di essere più forte di noi, ha vinto con grande merito, ha vinto con talento. Noi abbiamo avuto qualche occasione, devo dire anche con tiri buoni, aperti, per rientrare a meno uno, un canestro e fallo, situazioni che poi sono andate poi a farci perdere positività e a far prendere invece grande fiducia a Bologna, che ripeto, ha dimostrato in questo momento di essere più forti di noi e soprattutto noi in queste condizioni, con difficoltà certamente nel ruolo delle guardie, dove abbiamo fatto fatica a creare, a crearci un tiro, a prendere un vantaggio. Quindi merito a Bologna, noi dobbiamo anche recuperare fisicamente e qualcuno, dobbiamo recuperare anche proprio a livello di energia, perché abbiamo giocato anche con giocatori infiltrati, ma ripeto, questo non leva non leva niente a Bologna su quello che ha fatto, perché ripeto, ha giocatori onestamente di un altissimo livello e stasera l'hanno dimostrato ancora una volta, ho un pochino di, devo rivedere la partita, perché su alcune situazioni credo che potevamo chiudere con un abbrivio diverso, anche se poi, ripeto, nel terzo quarto la differenza soprattutto di energia è stata abbastanza evidente, dobbiamo rimboccarci le maniche e andare avanti sperando di recuperare un po' di giocatori e di avere un assetto un po' più equilibrato. Hanno trionfato ad Empoli invece le leonese della Reier, una performance eccezionale che ha portato a una vittoria più che meritata, conclusasi con un 56-64 per le Reierine. E per questa edizione è tutto, vi lascio ora le ultime notizie da Padova con il nostro direttore Massimo Righetto e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.